6 settembre 2020 buona domenica a tutti e buona domenica ai gruppi e buona domenica anche al mondo è vero che Conte ha detto con una grande battuta noi siamo la politica onesta del paese io oggi dopo aver ascoltato queste nuove ambizioni di questi personaggi diciamo pragmatici ma ancora a nostra insaputa di quello che sta accadendo nel mondo ancora sangue, morti e questa malattia sta aumentando cari compaesani, fratelli, sorelle amici, amiche popolo dei populismi italiani, europei, ennici come voi sapete da anni viviamo sotto il tetto di coloro che si comportano in modo maremoto anzi dove una parte civile di persone corrette ancora oggi corrette pochi ma ancora corretti dove pagano un sistema immondizia e tra questi valori esiste una parte di persone che si agguerriscono ancora su una civiltà etnica impadronendosi di portare queste persone su una strada ancora piena di buche e piena di rotture riempendole di droga e botte ancora oggi per farle prostituire sulle strade nei campi portando esse anche da altre nazioni poi abbiamo visto che ancora oggi esistono persone che si approfittano delle leggi italiane dove tante persone ancora oggi come nei tempi addietro non hanno mai contribuito versando nelle casse dell'Inps contributi ma ancora oggi come ieri e come in questi anni abbiamo visto persone italiane e straniere che aiutando tante persone con carte false e da questi operatori ripeto italiani e stranieri hanno fatto sì di regalare con i nostri soldi con i nostri versamenti con noi che abbiamo pagato tasse su tasse con noi abbiamo regalato a tanti di questi stranieri e a tanti di queste persone come una volta parlava il senatore a questi meridionali o altrimenti chiamiamoli terroni come li chiamava il senatore poi dopo è vero che ha sposato una donna meridionale ma l'amore non dà questa tregua perché quando due persone si amano che siano sud, nord, est, ovest o che vengano da paesi stranieri ma quando l'amore c'è non si può per nulla di male e questo può essere plausibile sposando persone diverse quando c'è l'amore ma tornando indietro un attimo giustamente da coloro operatori stranieri e da operatori italiani hanno fatto sì di regalare i nostri denari a tante persone che si sono intensificate con mezzi trupaldini e altri con generi in accordo politico così abbiamo regalato pensioni a persone che non hanno mai lavorato sia italiane che straniere ma non solo questo abbiamo regalato pensioni IMS di invalidità senza poi parlare degli accompagnamenti ancora oggi in accordo a politici mafiosi come dal 45 ad ora perché dal 15-18 ci sono state delle grandi guerre ci sono stati dei grandi morti nella prima guerra mondiale ma nella seconda guerra mondiale ce ne sono stati e sono susseguiti più morti di quelli della prima guerra mondiale ci sono morti con fucilazioni donne bruciate nell'acido e anche nelle camera gas anche bambini anche tante persone poi abbiamo un grande ricordo che giudici ci lasciò perché voleva che noi fossimo tutti asini e di fatti lasciò sulla carta la seconda elementare non voleva che noi ci istruivamo ci istruivamo perché ci voleva tutti scemi come oggi Conte ci vuole tutti scemi tutti i pappagoni come lui perché lui è un pinocchio vorrei ricordarvi che abbiamo avuto negli anni passati tanti membri di governo che invece di aiutare le persone e di essere umani e a salvare diciamo un genere umanistico a dir poco felice di italiani non si è dato nulla da fare ma abbiamo visto che in questi anni da tanti paesi dagli emirati arabi dove coloro hanno bruciato pozzi di petrolio e invece di dare una mano di aiutare amare semplificare una parte di vita per dare una vera armonia al popolo e per ritornare da anni ancora oggi in serie A ma non si è ancora ottenuto nulla si è sempre cercato guerra appunto da Gheddafi che ha portato qua tante persone e ancora oggi della Tunisia e tante persone ancora che stanno arrivando perché ancora oggi si continuano a creare danni e tanti di questi fatti successi e non si è fatto mai nulla per fermare guerre arabe guerre libanese guerre tunisine guerre africane guerre albanese ma a lungo andare siamo andati sempre molto male ancora oggi questi papa religiosi non fanno nulla ma hanno dei grandi attici vanno a fare le più grandi porcherie del mondo e poi vengono qua a predicare carità ma dov'è questa carità e amore vorrei saperlo dov'è questa nazione di umanità di felicità e di patria potestà volendo riportare in vita soldati italiani morti in Borgia Nasseria dove noi siamo andati a portare pace a portare umanità e questi sono venuti a casa tanti nelle bare come ora con questo covid-19 e non si va a trovare nulla per fermare questa pandemonia o pandemia con queste guerre da questi anni passati con distruzioni di città non mettendo ma ammettendo ancora oggi che da anni esistono tantissimi eventi climatici assai sbalorditivi è vero perché abbiamo ancora dei paesi veramente da ricostruire nazioni dove sono distrutte a causa di questi eventi sismici ancora fabbriche case stalle a for 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.